Ben trovati, perché la UIL, un sindacato di sinistra, di fatto se la prende con Nichi Vendola? Perché l'ordine dei medici della provincia di Bari, ma anche della provincia di Lecce, discute e dibatte e critica su quella che è la situazione attuale dei nosocomi. Per quale motivo? Vendola dice non voglio più parlare con l'attuale regente di Confindustria perché la regione ha dato tanto e queste polemiche strumentali non mi interessano, dice il governatore Vendola, sino a quando non convierà il regente di Confindustria. Per quale motivo c'è un'insofferenza anche a Terlizzi, nella sua città, proprio a casa del governatore Vendola, il sindaco, il suo sindaco o il suo candidato sindaco di riferimento viene sconfitto da un uomo di destra. Il paradosso, no? A casa propria si dovrebbe essere indiscutibilmente apprezzati e quindi saper controllare bene anche il territorio. Sapete perché? Perché forse il governatore Vendola, al di là poi si siano vere o meno le critiche, al di là se stia governando al 100% bene o al 50% male, forse pensa troppo alle foto di Vasto, alla sagoma di Bersani, a voler chiudere l'accordo con Di Pietro per tentare di limitare Grillo alla sua personale discesa in campo nazionale, forse ha perso troppo tempo per far finta di rimproverare il sindaco di Taranto, Impazio Stefano, che è un suo riferimento a proposito della pistola, della pistola che si è vista in fotografie e in riprese televisive subito dopo la vittoria della competizione elettorale. E ha ragione un mio collega, Tarantino, che quindi conosce molto bene quella realtà, a scrivere e a provocare domenica sul quotidiano il sindaco Stefano. Sì, Mauro Pulpito dice che non è accettabile vedere il sindaco armato. Ma vi ricordate qualche anno fa, a proposito di Taranto, quando si chiamò squadrista, fascista, il sindaco, cito, perché girava per le strade insieme alla polizia armato di manganello, non di una pistola, di un manganello. Ci fu uno scandalo, ci fu la ribellione del popolo del centrosinistra, lo stesso popolo che in parte, certamente non tutto, anzi in minima parte, però giustifica il sindaco Stefano. E voi mi direte, ma scusami, per quale motivo bisogna contestarlo se detiene regolarmente il porto d'armi? Bisogna contestarlo per la giustificazione che questo ha usata. hanno tentato più volte, come dire, di danneggiarmi, di assalirmi, di contestarmi. E che cosa significa tutto questo? Che allora ogni singolo cittadino, per timore di essere derubato, una donna col timore di vedersi tirar via la borsetta mentre cammina per strada, deve camminare armato. No, il sindaco è la istituzione, il sindaco deve garantire, come dire, la serenità di una collettività. Se il sindaco stesso dice io sono costretto a camminare armato perché potrei rischiare, significa che lancia un messaggio. Le forze dell'ordine non sono in grado di tutelare l'incolumità mia e dei miei concittadini. E non è vero. E non è vero certamente perché le forze dell'ordine sono sul territorio e combattono al fianco dei cittadini. Ma il messaggio lanciato su un tentativo di autodifesa permanente di Pazio Stefano potrebbe a qualche maligno far pensare proprio alla incapacità di qualcuno di difendere il cittadino. Ma così fortunatamente non è. Ma ritorniamo anche alla crisi regionale e al motivo per cui ambienti anche della sinistra, oltre agli elettori, contestano il governatore Vendola. Per quale motivo la UIL afferma che la regione negli ultimi anni non è stata in grado di mettere in piedi opere pubbliche, grandi, medie o piccole? Ossia denuncia il livello di Stasi. Sì, perché Vendola è troppo impegnato. Io ogni qualvolta che vedo, ed è quasi quotidiana, un'intervista del Presidente della Regione Puglia, lo vedo sempre presente in altre parti d'Italia, prendere posizioni legittime, per carità, su ogni argomento, ma non sentire una volta parlarlo, anzi non sentire una volta parlare il Presidente Vendola, anzi quotidianamente parlare il governatore Vendola, della situazione nell'ospedale di Lecce, nell'ospedale di Bari, così come già il grido d'allarme sollevato dagli ordini professionali, l'ospedale di Taranto di cui non si parla più, è una situazione complessiva della sanità, lì dove anche i direttori generali che lui ha voluto governare la sanità sui singoli territori, per superficialità, malgrado avessero avuto dalla Regione Puglia i fondi, non hanno onorato delle fatture che attendono da mesi il pagamento, con quale risultato che non solo le aziende che hanno fornito qualcosa alla pubblica sanità continuano a soffrire economicamente, ma ancora di più vedono maturati gli interessi passivi, con altri milioni di debiti sulla testa della pubblica sanità pugliese. Questo non è giusto per una persona che ha ricevuto per la seconda volta la fiducia dei cittadini e forse con tali atteggiamenti o con questo distacco con cui si pone non sta rispettando proprio il proprio mandato elettorale. A domani! Grazie!